panorama dietro a sacco bellissima qua mi trovo verso la grotta continenza è un magnifico panorama incredibile vedete la grotta continenza si trova qui sotto adesso provo ad ingrandire l'immagine ho ingrandito leggermente l'immagine qui ci troviamo la parte est del comune di trasacco di sotto la strada che porta ad ortoggio dei marzi mondevelino pomer miculina celano onde velina la in bomba pescina e san benedetto